La mafia capitale parte il processo prima udienza a carico del presunto sistema criminale facente capo al duo carminati buzzi legami con l'andrangheta e gli interessi del clan mancuso intanto 96 giornalisti sono stati denunciati per aver pubblicato materiale relativo all'inchiesta. Sciocchi indagata anche a Terni accusata di essere uno dei corvi colpevoli di aver trafugato informazioni segrete in Vaticano la 32 anni di origini cosentine è finita anche nel mirino della procura di Terni insieme al marito per loro accuse pesantissime. Mal tempo la normalità è lontana il punto sulla situazione in provincia di Reggio due paesi in lutto ancora gravi i problemi che si affrontano nella Locride riuniono in prefettura con tutti i componenti della task force chiamata ad affrontare l'emergenza. Agguato davanti a un bambino a crotone colpi di pistola contro un pregiudicato per mafia armi e droga che resta gravemente ferito il piccolo rimane in lesola la polizia indaga nel sottobosso andranghetista della città pitagorica. Serie D quel che non ti aspetti la regina vince il ricorso surrende si lascia dietro ben quattro squadre in casa vibonese si consuma invece il divorzio tra la società rosso blu e la bandiera Giovanni Ruscio. Telespettatori di La C, benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale che si apre con il maxiprocesso mafia capitale partito stamani a Roma. Via alla fase istruttoria su quel famoso mondo di mezzo che si intreccia anche con l'andrangheta passando per la gestione dei centri di accoglienza degli immigrati. In tribunale a Roma c'era per noi l'inviata Michela Mancini che ha raccolto le dichiarazioni degli avvocati dei due principali imputati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Al via il processo di mafia capitale la prima udienza nell'aula di tribunale dedicata a Vittorio Corsio dove il collegio dei giudici della decima sezione penale presiduta da Rosanna Iagnello è chiamato a giudicare 46 imputati. In aula per motivi di sicurezza non è presente Salvatore Buzzi. Buzzi non è al carcere duro e la legge gli consente di essere presente. Non ho capito perché tutti gli imputati possono essere, gli altri imputati che sono ristretti in carcere possono essere presenti al processo. Buzzi è l'unico che non può presenziare al suo processo. Noi vogliamo far emergere la verità e la verità è quella che non c'è l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Assente anche Massimo Carminati detenuto in regime di carcere duro al 41 bis nel penitenziario di Parma. Polemico il suo legale, Giosuè Naso. Questo è un processo prima di tutto mediatico. Pensate, pensate che il procuratore della Repubblica pensò bene di anticipare ad un convegno del PD l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare. Ma qual è il collegamento tra il sistema criminale del duo Carminati-Buzzi e il clan Mancuso di Limbadi? Ce lo spiega in questo servizio Michela Mancini. Siamo andati così fuori sui mancusi, il perno centrale che comanda. E invece dice alto compare, un attimo parliamoci, noi siamo in questo periodo bersagliati, sappiamo tutto ciò che è successo a Vipo. Siamo bersagliati dai giudici, però chiamiamo un ragazzo che è pulito della legge. La mafia capitale, tanto quella di Massimo Carminati quanto quella di Salvatore Ibuzzi, è da anni in affari con il clan dranghetista dei Mancuso di Limbadi. È quanto scrissero i giudici del riesame nelle motivazioni con cui furono respinte le richieste di scarcerazione di Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero, ritenuti dalla Procura di Roma l'anello di congiunzione tra l'andrangheta e il mondo di mezzo capitolino. Il rapporto mafia capitale in dranghetta è uno dei capisaldi da cui muove l'accusa al processo. Secondo le indagini della Procura di Roma, il primo Rotolo era dipendente della cooperativa 29 giugno, guidata da Salvatore Ibuzzi, il re delle coppe braccio destro di Carminati. L'altro, Ruggero, dal 2009 era ammanicato nel Roma Multiservizi S.p.A. presiduto da Franco Panzi Romani, ex numero uno dell'AMA, l'azienda che si occupava della gestione dei rifiuti. Nel dettaglio, l'appalto per la polizia del mercato squilino sarebbe stato garantito sulla scorta di uno scambio di protezione. In pratica, i Mancuso mettevano le mani su Roma in cambio della garanzia di protezione delle cooperative che si occupano dell'assistenza ai migranti giù in Calabria. Ma c'è anche un altro risvolto in questa vicenda, un episodio senza precedenti. Così, il sindacato della stampa ha definito il caso dei 96 giornalisti denunciati per aver pubblicato verbali e intercettazioni relative all'inchiesta Mafia Capitale. Questo grande processo al centro dell'attenzione mediatica, una delle caratteristiche è che sul banco degli imputati ci sono 96 giornalisti. 78 cronisti e 18 direttori che rischiano il processo e anche la sanzione disciplinare dopo la denuncia partita dalla Camera Penale di Roma per aver pubblicato verbali e intercettazioni relative all'inchiesta di Mafia Capitale. Coloro che hanno permesso ai cittadini di conoscere la verità su una delle più grosse storture e lordure degli ultimi decenni del nostro paese. Quel che viene contestato ai giornalisti è di avere pubblicato atti non più coperti dal segreto, quando però l'indagine era ancora in corso. Una denuncia senza precedenti, accusa il sindacato della stampa. Non difendiamo solo il diritto dei giornalisti a fare il loro mestiere, difendiamo anche il diritto dei cittadini ad essere informati. E restiamo a Roma perché il Tar del Lazio ha sospeso l'inibizione per tre mesi combinata al Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio dall'autorità anticorruzione per la nomina dell'ormai ex commissario dell'Asp di Reggio Calabria Santo Gioffre. Il Tar del Lazio ha sospeso l'inibizione per tre mesi dal potere di conferire nomine combinata al Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio dall'autorità nazionale anticorruzione dopo la nomina di Santo Gioffre a commissario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Il Tar del Lazio ha dunque confermato la sospensione del provvedimento disposta il 19 ottobre dal Presidente Francesco Corsaro e ha rinviato l'udienza di merito al mese di maggio. Il Tar della Capitale era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Governatore assistito dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Oreste Morcavallo. Il 16 ottobre scorso il Tar di Catanzaro accogliendo le tesi dell'Avvocatura dello Stato aveva sancito che la competenza del giudizio proposta rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio. L'autorità anticorruzione presieduta dall'ex PM Antica Morra Raffaele Cantone sollevò l'inconferibilità di Santo Gioffre, ovvero l'ilegittimità della sua nomina al vertice dell'Asp di Reggio essendosi candidato alla carica di Sindaco di Seminara, non eletto, nell'arco dei cinque anni precedenti. Da qui la sanzione nei confronti del Governatore Oliverio. Sanzione ora sospesa. Adesso torniamo in Calabria e facciamo il punto della situazione dopo l'ondata di maltempo del giorno di ogni Santi. Due Paesi in lutto e una provincia, quella di Reggio, alle prese. Con un ritorno alla normalità che sembra molto lontano. Tauriano e San Roberto si stringono attorno alle famiglie delle vittime dell'ondata di maltempo. Oggi l'ultimo saluto a Salvatore Comandè Pasquale Princi, mentre nel Regino, soprattutto nelle Alocride, il ritorno alla normalità è ancora molto lontano. All'ufficio territoriale del Governo, questa mattina, l'incontro del Prefetto Claudio San Martino e con gli altri componenti della Task Force insediatesi dopo il nubifraggio di ogni Santi, per fare il punto della situazione alla presenza degli organi di stampa e a beneficio dell'opinione pubblica. I Paesi isolati per il crollo della linea ferrata, tra Melito e Brancaleone, vengono forniti di un servizio bus. Tutto ciò mentre vengono ripristinati i collegamenti della linea ferroviaria tra Roccella, Ionica e Bovalino. In molte zone sono in azione i mezzi dell'esercito che contribuiscono agli interventi urgenti di messa in sicurezza che andranno avanti ancora per diversi giorni, soprattutto negli alvi dei torrenti e sui canali di scolo. La riapertura delle scuole in diversi centri è di buon auspicio, malgrado in alcune zone si continuino a registrare crolli e cedimenti. La ricognizione, finalizzata la quantificazione dei danni, così continuerà ancora a lungo. E ad essere colpito particolarmente dall'ondata di maltempo il territorio del Regino, stamani all'interno della prefettura di Reggio un vertice per fornire un quadro chiaro della situazione che si vive in provincia. Vediamo. Parola d'ordine, no ai trionfalismi. C'è ancora molto da fare nelle zone colpite dall'alluvione, anche se il prefetto San Martino è soddisfatto dei risultati della task force composta da tutte le autorità che ha messo in campo 1.400 uomini al giorno per contrastare i danni provocati dal maltempo. I problemi, però, non sono risolti. A Staiti 20 famiglie dovranno essere evacuate, Caulonia Marina è ancora del tutto isolata e alcune famiglie a palizzi superiore sono state rifornite di viveri e acqua ieri con l'elicottero. Situazioni di forte disagio anche a Bovalino e Bruzzano, mentre l'arteria della zona, la SS 106, è in fase di ricostruzione nei punti collassati sotto il peso del fango. L'ANAS promette che entro 10 giorni lavorativi sarà ripristinato il collegamento a Brancaleone e Ardore, mentre per i 750 metri di linea ferrata crollata a Ferruzzano la data di consegna dei lavori è stimata per il 12 novembre. Dei vecchietti di Bruzzano hanno visto passare il pulmino della Polizia di Stato con la croce medica e sono stati assistiti, mi hanno ringraziato, perché hanno visto i medici della Polizia di Stato che sono andati a casa loro. Questi racconti, piccoli racconti, testimoniano la prossimità nei momenti più difficili di questa provincia. E voltiamo pagina e parliamo di lavoro a Catanzaro questa mattina alla protesta degli LSU e LPU, sul cui futuro gravano le promesse disattese della legge di stabilità in discussione in Parlamento. Ce ne parla Gabriella Passariello. Quei 50 milioni di euro promessi dal governo e spariti dalla legge di stabilità e così una nutrita rappresentanza di precari di LSU e LPU sotto il vestillo dell'USB e della CONFIAD, Confederazione Autonoma Italiana Lavoratori, ha manifestato nella sede della cittadella regionale chiedendo per l'ennesima volta gli arretrati dovuti, sollecitando in particolare gli organi istituzionali preposti a far sì che nella legge di stabilità in discussione al Senato possono essere inseriti ed approvati gli emendamenti relativi alla copertura finanziaria di Sponda Nazionale per il 2016-2017, la variazione in bilancio per la copertura dei sussidi, le integrazioni per tutto il 2013 e soprattutto hanno implorato l'avvio dei processi di stabilizzazione. Pretendono garanzie per il loro futuro, una clausola che trasformi i contratti in essere in scadenza il 31 gennaio 2015, il rapporto di lavoro indeterminato, una battaglia per la stabilizzazione di circa 5.000 lavoratori ex LSU e LPU sconcertati di fronte al silenzio della deputazione calabrese dopo anni di sfruttamento da parte dei comuni e degli altri enti utilizzatori. Passiamo alla cronaca. Nella tarda serata di ieri a Crotone un agguato di probabile stampo mafioso gravemente ferito, un pluri pregiudicato e i killer hanno sparato incuranti della presenza di un bambino. Il killer non si è fatto scrupolo. Colpi di pistola a ripetizione contro Piero Ranieri, 38enne, noto alle forze dell'ordine, lasciato ieri sera poco dopo le 21 in una pozza di sangue ma ancora vivo in via Chille Grandi, quartiere Fondo Gesù a Crotone. Incurante il killer della presenza di un bambino sul luogo dell'agguato. Ranieri, colpito da più proiettili all'addome di una gamba, è stato subito trasferito al San Giovanni di Dio dove, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti diagnostici ed un delicato intervento chirurgico, è adesso ricoverato in gravi condizioni. Illeso il bambino mentre alcuni colpi andati a vuoto hanno infranto il lunotto posteriore di un'auto posteggiata nelle vicinanze. La vittima predestinata era in compagnia di alcuni amici quando da un'auto in corsa è sceso il sicario. Le indagini della squadra mobile in un contesto di sostanziale omertà partono dal sottobosco mafioso crotonese. Ranieri fu arrestato nell'ambito della maxioperazione Heracles. Accusato di mafia, armi e droga, aveva da poco scontato una condanna definitiva a sei anni, otto mesi di reclusione. E non finiscono i guai per Immacolata Francesca Sciocchi accusata di essere uno dei corvi colpevoli di aver trafugato informazioni sensibili in Vaticano. La 32enne di origini cosentine è finita anche nel mirino della procura di Terni insieme al marito Davide Lanino. Sentiamo perché. Si addensano altre ombre intorno alla figura di Francesca Immacolata Sciocchi nel bel mezzo della bufera scatenata dallo scandalo Vatilix 2 accusata insieme a Monsignor Lusio Angel Vallejo Balda di aver violato il vincolo di segretezza stretto con la Santa Sede. La 32enne di origini cosentine è finita insieme al marito Davide Lanino nel mirino della procura di Terni. Un filone di inchiesta su quelle che la stampa ha già ribattezzato le tangenti della fabbrica dei Santi. In sostanza la procura Umbra ipotizza per i conugi i reati di estorsione e intrusione informatica finalizzati a orientare l'attività dei cosiddetti avvocati postulatori che gestiscono le pratiche di beatificazione e canonizzazione dei Santi. In particolare l'attenzione degli inquirenti si concentra sul furto di alcuni documenti avvenuto circa un anno e mezzo fa. Per la procura Umbra sarebbe stato fondamentale il contributo di Lanino marito della Sciocchi ma anche esperto informatico già webmaster del circuito Intranet della Santa Sede che si sarebbe introdotto in diversi computer per carpire informazioni riservate usate poi per oleare gli ingranaggi del delicato meccanismo che regola le pratiche di beatificazione e canonizzazione all'interno del Vaticano. Questo potrebbe portare l'inchiesta ad allargarsi a macchia d'olio coinvolgendo anche medici, periti e religiosi incaricati di gestire le pratiche. E adesso vediamo insieme le altre notizie di cronaca della giornata. Un sacerdote di Cosenza è indagato per violenza sessuale. Stamani gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione a carico del religioso nel corso della quale è stato posto sotto sequestro materiale informatico che è ora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza Antonio Tridico. È stata incendiata in pieno giorno l'auto di un insegnante che stava tenendo lezione a scuola. Il fatto è avvenuto a Vibomarina dove i gnoti hanno dato fuoco all'auto di un 64enne docente della locale scuola media. Alcuni passanti notando le fiamme hanno alertato i vigili del fuoco che intervenuti sul posto hanno provveduto a spegnere l'incendio. Fa rientrare 930.000 franchi pari a 860.000 euro è la richiesta inoltrata dalla Procura di Torino e le autorità svizzere per il rientro delle somme depositate su due conti correnti riconducibili a Giuseppe Nirta ritenuto un esponente dell'Andrageta in Valle d'Aosta e condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti. Lo scorso marzo la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso dei suoi legali contro la confisca disposta dalla Corte d'Appello di beni immobili e conti correnti. Quattro malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella casa di un'anziana di 73 anni e dopo averla immobilizzata l'hanno rapinata di tutti i suoi risparmi. È successo nel comune Vibonese di Acquaro nella frazione Piani dove la donna viveva da sola. Dopo le rapine i malviventi si sono rapidamente dati alla fuga. Incessanti le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Arena diretti dal maresciallo Carmine Napolitano. Un giovane di 23 anni Andrea Amato è stato arrestato dal personale del commissariato della polizia di Villa San Giovanni con l'accusa di furto. Avrebbe svaliggiato un appartamento nel settembre scorso mentre gli inquilini erano al funerale di un congiunto. Nell'occasione erano stati portati via documenti, denaro, effetti personali e un bancomat poi usato per effettuare alcuni prelievi. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità del ladro grazie alle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza degli istituti di credito. È durato pochi giorni in ritorno alla libertà di Vito Martino 45 anni di Cutro personaggio considerato organico all'andrangheta e imputato anche per il reato di omicidio ad arrestarlo ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Crotone in collaborazione con i colleghi della stazione di Cutro. Arrestato nel dicembre del 2000 nell'ambito della maxi operazione scaccomatto Martino è considerato un elemento pericoloso organico al potente clan grande Aracri di Cutro E cambiamo decisamente argomento prodotto tipicamente calabrese considerato un caposaldo della dieta mediterranea e l'olio d'oliva il cui valore enogastronomico alimentare e commerciale è stato ribadito nel corso di un'iniziativa organizzata da Coldiretti L'olio calabrese nell'anno dell'espora presenta uno dei prodotti simbolo del Made in Italy un dato emerso nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Coldiretti Calabria per illustrare le iniziative e le opportunità pensate dall'organizzazione di categoria a sostegno dei produttori e dei consumatori L'olio d'oliva calabrese è un'eccellenza del Made in Italy e sicuramente aveva necessità di recuperare valore aggiunto da parte soprattutto degli agricoltori Riduzione della filiera di produzione e contratti sottoscritti con i produttori sono le novità illustrate dal presidente di Coldiretti in un rapporto di trasparenza ed eticità che permetterà a coloro che si interfacceranno con le imprese di rendere tracciabile il loro prodotto Abbiamo accorciato la filiera siamo passati da 7 passaggi che normalmente avvenivano in questa filiera a 3 passaggi 50 le filiere certificate in Calabria e oltre 21 le varietà di olive che hanno consentito il riconoscimento delle DOP Bruzio la Mezze Alto Crotonese nonché dell'IGP Olio di Calabria una ricchezza quindi per l'agricoltura volano di sviluppo e modello concreto che nel decennio 2000-2010 per quanto riguarda la produzione è andata ad incrementarsi nonostante la riduzione fattiva di 7000 aziende sul territorio calabrese Un tributo alla musica napoletana ma soprattutto un omaggio a Pino Daniele sabato sera a Catanzaro Torna il Festival d'Autunno eventi che vengono presentati dal direttore artistico Santa Croce ecco lei i nostri microfoni Il rock italiano approda al Festival d'Autunno James Senese Napoli Centrale e Gli Osanna si esibiranno in un doppio concerto sabato prossimo al Teatro Politeano di Catanzaro un'idea realizzata dal direttore artistico Antonietta Santa Croce nel rispetto di un cartellone dedicato al Sud Italia Ho mostrato i primi passi fino a Daniele ed infatti una parte del concerto sarà dedicata ad un omaggio al grande napoletano scomparso mentre appunto Gli Osanna appunto ci regaleranno una loro performance utilizzando anche numerose proiezioni e la teatralità che caratterizza appunto le loro esibizioni Entrambi i gruppi appartengono a un periodo florido della musica napoletana lo stesso che ha visto fiorire un movimento trainante per la rivoluzione musicale degli anni 70 che aveva notato i primi sussulti nel decennio precedente con The Showman E inoltre presenteranno a Catanzaro in anteprima assoluto per tutta l'Italia il loro nuovo CD paleopolitano quindi veramente un evento da non perdere Il nuovo doppio CD ed LP in vinile degli Osanna la cui pubblicazione è un omaggio al quarantennale di Palepoli è stato presentato in prima internazionale in Giappone E continua il rilancio culturale della città di Cosenza dove torna a splendere il Museo dei Bretti e degli Enotri il servizio di Rossana Muraka Dopo il Castello Svevo anche il Museo dei Bretti e degli Enotri rinasce a vita nuova dopo sei anni dalla sua inaugurazione è stato riconosciuto dalla regione Calabria come ente nella rete delle eccellenze dei beni culturali regionali è da questo riconoscimento che è scaturita la procedura di evidenza pubblica attraverso la quale l'ente regionale ha poi selezionato i progetti di valorizzazione presentati da soggetti privati Per il Museo Cosentino ha sviluppato la sua idea la società Museion in collaborazione con Omniarc di Lamezia e la spin-off dell'Unical i nuovi servizi che saranno realizzati tra novembre e dicembre si svilupperanno su tre dimensioni miglioramento della fruibilità culturale potenziamento dei servizi di accoglienza creazione di una biblioteca del gusto Sebbene il Museo abbia sviluppato una serie di iniziative e di attività nel corso di questi anni da quando è aperto comunque abbiamo bisogno dell'apporto dei privati per poter migliorare quantitativamente e qualitativamente la nostra offerta La sinergia tra amministrazioni pubbliche e privato ha consentito alle strutture culturali di aprirsi alla città e ai cittadini offrendo maggiori servizi e favorendo un incremento del turismo L'amministrazione Occhiuto fin dal suo insediamento ha sempre dato molta rilevanza non solo alle attività culturali ma anche molta importanza alle strutture culturali della città non solo restituendole alla città come il caso del castello ma anche soprattutto aumentando i servizi Apriamo adesso la pagina sportiva ci spostiamo in riva allo stretto ricorso accolto per la regina che recupera tre punti dal derby con il Rende lasciandosi così dietro ben quattro formazioni I problemi restano ma il balzo in classifica è significativo il ricorso vinto contro i cugini del Rende regala un sorriso formato tre punti in più al gruppo di Cicciocozza aspettando il contro di corso presentato dal club silano che vuole comunque dimostrare le sue ragioni in merito alla posizione di Marco Feraco la squadra Maranto sale così a 13 punti in classifica in graduatoria generale Arena e compagni sorpassano gli stessi silani il Noto il Marsale e l'Agropoli attestandosi al momento fuori dalla zona rossa a braccetto con la Versa Normanna ricorso o no il città di Reggio si giocherà gran parte delle ultime chance per rientrare in corsa nelle prossime quattro gare di campionato se quello che dice Cicciocozza è vero si capirà a fine novembre mese cruciale per i colori Amaranto il calendario dà una mano ovviamente solo sulla carta già a partire da domenica quando al Granillo sbarcherà il Gragnano che lontano dal proprio campo non ha certo dimostrato prestazioni granitiche ma di punti in classifica ne ha conquistati sul campo ben cinque in più di Arena e compagni nel successivo turno infrasettimanale del mercoledì di Amaranto saranno di scena scordia tra le cenerentole del torneo e quasi mai concreta dentro le muri amiche seppur la formazione siciliana abbia eliminato dalla Coppa Italia proprio la squadra di Cicciocozza il 5 novembre sarà derby tutto regino contro la Palmese l'impegno più probante contro la regina delle straregionali calabresi ma in fase calante soprattutto in trasferta poi toccherà l'Agropoli prima del turno di riposo forzato l'occasione giusta per incamerare quei punti che Cicciocozza ha messo nel mirino da un po' e che potrebbero far volare o affossare definitivamente il nuovo progetto regina e restiamo in serie di andiamo in casa a Vibonese dove si è consumato il divorzio tra la società Rosso Blu e il centrocampista Giovanni Ruscio l'Unione Sportiva Vibonese Calcio e il tesserato Giovanni Ruscio dopo un franco e costruttivo confronto hanno deciso di interrompere il rapporto sportivo in corso per la presente stagione agonistica nell'esprimere la reciproca stima consolidata in vari anni di percorso comune le parti si sono scambiate gli auguri di un proficuo futuro calcistico ricco di soddisfazioni reciproche si risolve così con una stringata nota stampa della società il rapporto tra il club del presidente Pippo Caffo e il centrocampista di Monterosso già per diverse stagioni parte integrante dell'organico della squadra Rosso Blu bocche cucite per il momento sulle ragioni di questo divorzio già nell'aria dire il vero in fase di rinnovo contrattuale del mercato estivo che ha dato in là la nuova stagione Rosso Blu Russo fu l'ultimo dei senatori freschi di promozione in Serie D a trovare l'accordo di conferma con il club di Via Piazza Darmi per problemi di carattere economico solo l'intervento del patron Caffo limò le distanze fra le parti e Russo iniziò la sua quarta esperienza in maglia della Vibonese tra titolari e riserve è stato più o meno sempre presente in queste prime gare di campionato ieri sera l'addio a sorpresa per qualcuno ma per qualcun altro no E con lo sport termina questa edizione del telegiornale e prima di lasciarvi un breve riepilogo delle principali notizie di questa edizione grazie per averci seguito Al Via il processo di mafia capitale la prima udienza nell'aula di tribunale dedicata a Vittorio Corsio dove il collegio dei giudici della decima sezione penale presiduta da Rosanna Ianiello è chiamato a giudicare 46 imputati in aula per motivi di sicurezza non è presente Salvatore Il Tarlazio ha sospeso l'inibizione per tre mesi dal potere di conferire nomine combinata al presidente della regione Calabria Mario Liverio dall'autorità nazionale anticorruzione dopo la nomina di Santo Giofrea commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Il Tarlazio ha dunque Tauriano e San Roberto si stringono attorno alle famiglie delle vittime dell'ondata di maltempo Oggi l'ultimo saluto a Salvatore Comandè Pasquale Princi mentre nel Regino soprattutto nella Locride il ritorno alla normalità è ancora molto lontano all'ufficio territoriale del governo 40 milioni di euro promessi dal governo e spariti dalla legge di stabilità e così una un'ultrita rappresentanza di precari di LSUL più sotto il vestillo dell'USB e della Confiad Confederazione Autonoma Italiana Lavoratori ha manifestato nella sede della cittadella si addensano altre ombre intorno alla figura di Francesca Immacolata Shockey nel bel mezzo della bufera scatenata dallo scandalo Vatrix 2 accusata insieme a Monsignor Lusio anche il Vallejo Balda di aver violato il vincolo di segretezza visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C News 24 va in onda alle 16 e 30 i calabresi sono informati a presto